Un saluto da Elena Rughetto, Compravendite Immobiliari. Oggi si va a rogitare. Andare dal notaio a rogitare è un momento molto importante per me. È il compimento di un lavoro fatto con attenzione nei confronti dei miei clienti affinché possano arrivare serenamente e assolutamente senza pensieri a questo giorno dove tutto si finalmente si risolve e si compie. Sentiamo che cosa pensano Barbara e Marco del servizio offerto da Elena Rughetto, Compravendite Immobiliari, che poi sono io. Oggi siamo dal notario per la stipula dell'atto notarele dell'appartamento di Barbara e Marco. Voglio chiedere a loro come si sono trovati con il mio studio e il servizio ricevuto da Elena Rughetto, Compravendite Immobiliari. Allora, noi siamo davvero entusiasti del lavoro che ha fatto Elena rispetto al nostro appartamento da subito, da quando ci siamo conosciuti e ha cominciato a prenderlo in carico, conoscerlo, l'ha valorizzato al meglio. Ha proceduto poi con le visite dell'appartamento in assoluta autonomia per cui ha portato avanti tutto il lavoro da sola tenendoci costantemente informati, arrivando poi alle persone che hanno deciso di acquistare la nostra casa. Ci ha seguiti davvero in tutto e per tutto, ci siamo sentiti davvero gestiti in maniera completamente professionale e con grandissima passione, per cui siamo assolutamente concordi nel sponsorizzare e suggerire Elena per questo tipo di lavoro che lei davvero svolge con grandissima professionalità, però devo dire veramente anche tanta passione che trasmette nel suo lavoro e si sente davvero in tutti i dettagli di quest'opera. Grazie Barbara, grazie Marco, è stato un vero piacere lavorare insieme. Anche per noi, davvero. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.